È un'emozione grandissima, sono felicissimo e tornare oggi a Napoli è un qualcosa di straordinario, tornare da terza carica dello Stato. Sei tornato in treno, non è cambiato nulla rispetto a prima della nomina, dell'elezione al Presidente della Camera? Non deve cambiare nulla da questo punto di vista, è molto importante. Oggi in treno, normale, tassi, seconda classe, tutto deve rimanere semplice e umile. Grazie.